Noi donne siamo solo dei pretesti per permettergli di raccontare ancora una volta il suo bestiario, il suo circo, il suo spettacolo neurotico. E noi lì, a fare da pagliacce, da bagliadere, da marziane, a dare spettacolo per lui, della nostra passione e della nostra sofferenza. Questo lorido, copo, stremato califo sappia una volta per tutte che noi non siamo marziane. Vogliamo abitare la terra, questa terra, e non per fare da concime come avviene da 4.000 anni. Non ci conosce e non vuole conoscerci, ma proprio questo sarà il suo nome mortale, perché rinchiude nel buio del suo aree, volumolate, inghetti, miserabili e russureggianti. Noi abbiamo avuto il tempo di spiare, di osservarlo il nostro carceriere, il nostro padrone. Oh sì, ti abbiamo individuato, sappiamo tutto. Tu sei il pagliaccio, il marziano.